Ciao ragazzi e bentornati. Di cosa parliamo oggi? Parliamo di queste e soprattutto di tutte le sigle che hanno FF, A2, P1, R, N, D... Sigla! Bene, quindi oggi ci andiamo a occupare di DPI, cioè di dispositivi di protezione individuale. È un video molto interessante e soprattutto molto utile perché va a toccare una parte molto importante del nostro hobby o del nostro lavoro e cioè la nostra protezione, in particolar modo la protezione dei nostri polmoni in questo caso. Alcuni di voi hanno notato che io spesso, soprattutto nei primi video, ho sottovalutato questo aspetto e mi avete giustamente ripreso, per cui ho pensato di documentarmi e una volta documentatomi di dirvi quello che ho scoperto. Una delle prime difficoltà che ho incontrato nel momento in cui mi sono voluto informare per sapere che maschera comprare è stata sicuramente l'innumerevole quantità di sigle e colori che corrispondono a determinati tipi di protezione. Per cui inizialmente vi dirò quali sono appunto questi gradi di protezione e come vengono indicati nelle maschere e poi andremo a vedere qualche maschera e in fondo vi lascerò qualche consiglio sulle più comuni e sulle più versatili, secondo me, a seconda appunto di quello che vi può servire. Sicuramente vi dico già che questo video avrà un occhio di riguardo appunto per noi hobbisti, per cui il professionista può ad esempio far riferimento ai link che lascerò in descrizione per andare a vedere tutto nei minimi particolari cosa appunto prescrivono le leggi italiane. Detto questo partiamo ponendo l'attenzione sui filtri antipolvere, quindi quelli che utilizziamo ad esempio nel momento in cui andiamo a lavorare sul legno. Per conoscere quale maschera scegliere dobbiamo conoscere quattro fattori. Primo di questi fattori è indubbiamente quale polvere vogliamo bloccare perché non entri nei nostri polmoni. Questo dipende appunto dalla lavorazione che andiamo a fare ed è abbastanza semplice ovviamente venire nella conoscenza. Il secondo fattore è la concentrazione di queste polveri all'interno del nostro laboratorio o comunque posto di lavoro. Questo è già un valore che noi hobbisti difficilmente conosciamo perché non conosco nessun hobbista che ha fatto una valutazione dei rischi all'interno del suo garage. Il terzo valore che dobbiamo conoscere è il valore limite imposto all'interno del posto di lavoro, cioè qual è il valore limite entro il quale dobbiamo stare solitamente inteso nelle otto ore di lavoro all'interno del quale c'è diciamo sicurezza fra virgolette. Anche questo valore per noi hobbisti risulta abbastanza fumoso per il semplice fatto che spesso non lavoriamo otto ore all'interno del nostro laboratorio e soprattutto non avendo fatto una valutazione dei rischi non conosciamo qual è questo valore limite. Il quarto fattore invece è un fattore che conosciamo perché ci viene detto dalle case costruttrici delle maschere ed è il fattore di protezione operativa, cioè quanto la maschera lascia filtrare al suo interno la concentrazione delle polveri che c'è all'esterno. Questo valore viene calcolato prima in laboratorio e poi viene appunto pensato per il fattore operativo. In che senso questo? In laboratorio le condizioni sono ottimali per cui una maschera aderisce ad esempio perfettamente al viso, mentre invece in condizioni operative, pensate ad esempio al mio caso con la barba, sicuramente la maschera non aderirà al 100% al viso per cui alcune accortezze come ad esempio questa di rasarsi la barba potrebbero portare ad avere un fattore di protezione maggiore. Quindi questo valore di protezione operativo sostanzialmente è peggiorativo rispetto a quello logicamente pensato in laboratorio. Per i filtri che troviamo in commercio, appunto quelli denominati P1, P2 e P3, sappiate che il fattore di protezione operativa risulta essere 4, 10 e 30. Questi tre valori cosa vogliono dire? Vogliono dire che ad esempio il P1 che ha un fattore di protezione operativa di 4, riduce di 4 volte la concentrazione all'interno della maschera della polvere che c'è all'esterno, il P2 di 10 volte, il P3 di 30 volte. Nelle maschere monouso l'indicazione del filtro P1, P2 e P3 viene preceduta da due lettere che sono FF. Sostanzialmente vuol dire appunto che la maschera non è una maschera riutilizzabile. Apro e chiudo una parentesi. Vero e non è vero perché in alcune maschere è presente una dicitura e cioè una R. Se trovate una dicitura con la R vuol dire che il filtro è riutilizzabile. Solitamente se la R è in una maschera monouso si intende che può essere riutilizzato per tre turni consecutivi di lavoro. Se invece l'R è presente su un filtro quindi apponibile ad esempio in una semimaschera vuol dire un'altra cosa ma ve lo dico un po' più avanti. Mentre invece ancora sulle maschere quelle monouso potete trovare oltre alla R la dicitura ad esempio NR. NR vuol dire che la maschera può essere usata una volta sola. Ma a riguardo dei tre gradi di protezione quindi P1, P2 e P3 con le relative F davanti se parliamo di maschere monouso c'è inoltre da sapere che ogni grado di protezione protegge da un determinato tipo di polvere. Ovviamente a salire il grado più alto protegge anche dalle polveri presenti e nominate nel grado più basso. Ad esempio nel primo grado si viene protetti tranquillamente da cotone e fieno. Nel secondo grado invece vengono trattate ad esempio la lana di vetro e le fibre della levigatura metallica. Mentre invece nel P3 cioè nel grado più alto si viene protetti ad esempio anche dalla levigatura di faggio e quercia che invece non vengono trattate dal filtro P2. Alla luce di tutte queste informazioni quindi cosa se ne deduce? Se ne deduce che se non abbiamo dei valori certi dateci da una valutazione dei rischi nel nostro posto di lavoro in particolar modo dei nostri laboratori da obbisti io sinceramente mi sento di consigliarvi almeno un filtro P2 meglio se lo trovate P3. Ultima cosa che sicuramente ci interessa è la durata di questi filtri. Parliamo dei filtri logicamente non delle maschere facciali perché come detto prima le maschere facciali sono monouso o a limite riutilizzabili due o tre volte. Mentre per i filtri si tratta di sostanzialmente una prova empirica perché non si ha niente che ci indica che il filtro è consumato. Solitamente quando lo si utilizza appunto insieme ad una maschera o ad una semimaschera quando la respirazione diventa complicata e si avverte una certa resistenza appunto nel passaggio dell'aria vuol dire che il filtro è saturo e va cambiato. Vi faccio vedere qualche maschera per darvi un po' un'idea di quello di cui sto parlando perché non tutti comunque le hanno avute sotto mano. Allora questa qui ad esempio è una maschera facciale monouso la riconoscete perché è completamente fatta di materiale in teoria traspirante. Le migliori hanno dei belli elastici qui e dei ferretti per andare a seguire la figura del naso del viso ma comunque non copriranno mai ermeticamente tutto. Alcune hanno come questa una valvoletta per cui in aspirazione le polveri e l'aria passano attraverso tutta la maschera filtrante mentre in aspirazione si butta fuori l'aria dalla valvolina. Comunque quello che mi premeva farvi vedere era la sigla che c'è qui sopra. Ora vedo di farvela inquadrare come si deve dalla telecamera. Come vedete è riportata una sigla che recita FFP2NRD. Questa sigla nient'altro sta a significare che come abbiamo detto prima che è una maschera appunto di classificata P2NR quindi monouso non si può riutilizzare. La D che trovate delle volte vuol dire che è stata testata per rintasamento con polvere di dolomite. Questa invece che vi faccio vedere è diversa. Mi spiace che la scritta sia nero su blu perché non credo di riuscire a farvela leggere. Ci proviamo. Comunque sostanzialmente non riesco bene a mettervi a fuoco perdonatemi. Comunque sostanzialmente recita FFP1NRD. Quindi questa è una maschera di un grado inferiore a quella che abbiamo visto prima. Sempre usa e getta perché è NR testata sulla polvere di dolomite perché è D. Infine l'ultima che vi faccio vedere è la più comune. Cioè questa qua. Ora ve la faccio vedere un po' meglio. Questa. Questa non protegge assolutamente da nulla. Per il semplice fatto che non c'è nessuna sigla scritta sopra. Ma soprattutto nella scatola viene riportato la dicitura. Questa maschera non è un DPI. Io quando le ho prese diciamo per dare il bianco in casa mi sembrava che ho fatto un bel acquisto. Costavano poco e c'era un motivo. Sostanzialmente non proteggono da polveri o da gas. Per cui se ne avete di queste e pensate di proteggervi con queste scordatevelo. Passiamo adesso a parlare dei filtri relativi a gas e vapori. Nelle maschere appunto adibite alla protezione da gas o vapori riusciamo a riconoscere il tipo e il modello dai colori e dalle sigle che anche qui troviamo sopra. Le lettere indicano da quale gas si viene protetti dalla maschera. Le più comuni che troviamo sono le A che sono di colore marrone e sono quelle che proteggono da gas e vapori con ebollizione al di sopra dei 65 gradi. Quindi già questa va bene per essere utilizzata appunto nel momento in cui andiamo a verniciare. Altrimenti ci sono le altre lettere che sono ad esempio BE, K, AX, SX e così via che proteggono da gas specifici. Anche qui nel pdf cercherò di lasciarvi un po' di link per andare a leggere da quale gas si viene protetti con le varie lettere. Comunque solitamente quello che serve a noi è appunto il filtro marrone. Oltre al tipo di filtro c'è il tipo di protezione per cui si parla di classi a bassa, media e alta protezione denominate da un numero anche qui 1, 2 o 3. Quindi ad esempio un filtro A2 ci protegge discretamente nel momento in cui noi andremo a pitturare il nostro oggetto. Bene, ora che sappiamo riconoscere il filtro che ci serve per proteggerci dalla polvere e quello per proteggerci dai gas, vi faccio vedere con i denari che ho ricevuto dai donatori su Paypal cosa ho preso io. Siccome non l'avevo sono andato un po' a scegliere e ho scelto questa maschera della Honeywell. L'ho scelta innanzitutto perché difficilmente l'ho trovata nei video in giro degli altri maker. Per cui ho detto prendiamo una cosa che si trova facilmente e diamone un giudizio visto che per tutte le altre ci sono molti maker che le utilizzano. Vi lascerò comunque in fondo al video i link necessari per comprare in rete le maschere di qui sopra e adesso ne parliamo un po'. Allora questa è una semimaschera ad aggancio intorno alla testa e viene indossata in questo modo qui. Capisco che non è particolarmente comoda però a me interessava proteggermi bene come fino adesso sostanzialmente non ho fatto però me ha colpa. La parte alta è una parte relativa al filtro per le polveri. In questo caso è un filtro P3. Questa maschera qui vi ricordo che è in vendita da Brickman. L'ho presa anche perché Brickman è spesso presente in tutte le città e quindi è di facile reperibilità. I filtri di ricambio non costano uno sproposito più o meno siamo in linea con quelle delle altre marche che ora vi dirò però effettivamente non l'ho mai vista testata in giro per cui come vi dicevo ho deciso prendiamola. Quindi parte alta relativa alle polveri parte bassa relativa a gas e vapori e come vedete ha una banda marrone per cui protegge appunto dai gas di tipo A. Come vedete qui davanti vengono indicati i numeri sopra la banda marrone e le lettere corrispondenti alle protezioni di cui parlavamo prima. In questo caso parliamo appunto di una maschera che è data come A2P3R. Questo vuol dire che ha una protezione del gas A di classe 2 quindi media già buona P3 quindi il massimo grado di protezione dalle polveri e R riutilizzabile si riferisce logicamente al filtro per le polveri. In questo caso cosa che non vi ho detto prima oltre al filtro per le polveri bisognerebbe sapere anche quando il filtro con i carboni attivi va ad esaurirsi. Anche questa è sostanzialmente una cosa empirica per cui quando la respirazione diventa difficoltosa vuol dire che il filtro uno dei due comunque è arrivato al limite per cui va cambiato. Questi filtri qua che vi faccio vedere si svitano e vengono cambiati qua avvitandoli al posto della maschera. Anche la maschera come quella a monouso ha una valvola qua davanti che è molto più efficiente di quelle monouso per cui in aspirazione si aspira dalle parti laterali dove ci sono i filtri e una volta che si butta fuori l'aria la valvola si apre e fa uscire l'aria. Qui dentro la cosa che la differenzia principalmente dalla maschera a monouso potete vedere che è fatta in un modo che va aderire completamente al viso anche per una parte interna per cui pur avendo lo spazio per respirare e vi assicuro non si appannano nemmeno gli occhiali da lavoro aderisce molto meglio al viso per cui protegge molto molto meglio. Questa parte qui una volta che si è finita di usare la maschera, qualsiasi maschera sia a mezza faccia come questa, una semimascera veramente si dice, va pulita con una garza o con un prodotto antibatterico. Dopodiché il tutto va riposto in una sacchetta o in una cassetta in modo che non prenda polvere se la teniamo all'interno del nostro laboratorio. Insieme a questa maschera qui ho comprato anche questi che sono i suoi filtri, in questo caso li ho comprati a P3, riutilizzabili anche questi, che volendo si avvitano qua in modo che la maschera risulti decisamente meno ingombrante nel momento in cui non mi serve proteggermi da un gas ma solamente ad esempio dalle polveri. Ora accantonando un attimo questa maschera, i link che vi lascio in descrizione al video e nel sito sono link di maschere già testate da altri maker e che li vedrete utilizzare e soprattutto sono abbastanza balasonate. Su questo io sinceramente non andrei molto a risparmio, non andrei a comprare per forza roba per risparmiare qualche denaro perché si tratta comunque bene o male della nostra salute. I link che vi lascio sono delle maschere, della semi maschera della 3M che è probabilmente la più venduta, ha un sistema di aggancio dei filtri non a vite ma a baionetta per cui in teoria evita anche il rischio di avvitare male il filtro e sostanzialmente offre la stessa protezione con i filtri intercambiabili sia quelli per la polvere che per il gas come questa qui. La cosa figa della 3M però è che ad esempio in un filtro come questo io non posso cambiare la parte alta del filtro antipolvere e tenermi la parte del filtro antigas mentre invece in quella della 3M si. E poi ci sono queste altre due che vi faccio vedere che sono la maschera della Ellipse che è una maschera anche questa semifacciale e con filtri intercambiabili sia per i gas che per le polveri. L'altra che vi faccio vedere è una maschera della 3M, anche questa vi lascio il link. La particolarità di questa maschera cos'è? è che unisce le due cose cioè è comunque una semimaschera con una protezione paragonabile a quella che avete visto della Honeywell o della 3M ma i filtri non sono intercambiabili sono fissi cioè quando finiscono la loro vita dovete buttare via la maschera. Questa maschera della 3M dispone di diverse configurazioni a seconda dell'utilizzo che dovete farne. Quindi polveri, gas sul sito della 3M trovate tranquillamente tutta la descrizione per trovare il codice giusto della maschera che vi serve. Ok quindi una cosa importante che vi dico subito è che questo video non ha nessuna collaborazione in atto per cui quello che vi ho detto è quello che ho scoperto io navigando un po' sulla rete e andando a vedere. I link che vi lascio sia delle maschere della 3M che quelli delle lips che dei vari filtri sono link su Amazon però ad esempio vi posso dire che la 3M è venduta dall'Erua Merlin se non sbaglio mentre come vi dicevo la Honeywell l'ho comprata da Brickman. Però vi ripeto non c'è nessun accordo commerciale per cui è una cosa che vi riporto così come l'ho trovata io. Bene io spero di non avervi annoiato con questa pappardella sulle maschere io l'ho trovata molto interessante, istruttiva e soprattutto importante perché giustamente è bello seguire i nostri hobby è più bello seguirli in sicurezza. Corco boia che slogan che ho tirato fuori. Bene detto questo un paio di cose al volo avete visto nei social che stiamo facendo girare questo simpatico video che ho editato grazie ai filmati che mi hanno mandato gli altri maker parteciperemo infatti venerdì prossimo, veramente alcuni arrivano giovedì e vanno via sabato ma io ad esempio ci sarò solo venerdì insieme ad altri maker vi lascio tutti i link dei loro siti in coda al video e ci vedremo per la giornata per il Mano Maker Day di quest'anno. È un'ottima occasione per incontrare persone lontane in Italia che onestamente non riuscirai a vedere altrimenti filmeremo tutto e avrete un sacco di reportage con vari punti di vista mio e degli altri maker che ci sono. Ultimi ma non ultimi ringrazio Marco, Marco, due Marco, uno C e uno G e Paolo che hanno donato qualcosa su Paypal come hanno fatto gli altri nelle volte scorse anche poco ma comunque è un segno che quello che sto facendo vi interessa e sinceramente ricevere appunto qualcosa per sostenere le spese del canale fa solo che piacere. Io vi ricordo come al solito di iscrivervi ai vari social naturalmente al canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!